Sbabam presenta gli Spider Ball Nitro Ball, il tipo svelto Color Ball, la bella e affascinante Power Ball, quello più deciso Sunny Ball, l'energia in persona Wind Ball, il brillante ritardatario Slow Ball, il più tranquillo Giocaci! A casa, a scuola O all'aria aperta Divertiti a lanciarli Sono simpatici e coloratissimi Collezionali tutti L'avventura degli Spider Ball Ti aspetta da febbraio in edicola